Buongiorno, siamo qui a The Space Cinema di Roma, abbiamo appena visto in anteprima assoluta il nuovo film su Gio Manchi, abbiamo qua Sara Labietti che ha doppiato uno dei personaggi del film, cioè l'attrice che fa Marta da adolescente. Allora, visto che l'hai appena visto in anteprima, cosa ci puoi dire su questo film ti è piaciuto o no, anche rispetto all'originale? Allora, ciao a tutti, ho avuto l'onore di doppiare Gio G2 nel ruolo di Marta, sarebbe lei, beh questo è stato un gran film, mi ha sorpreso molto e sono contenta di aver partecipato, di aver potuto partecipare a questo capolavoro. E' un gran bel film e ve lo consiglio veramente, quindi uscirà il primo gennaio, se non erro, e quindi niente, non vi posso spoilerare nulla, quindi vi dico solo che andatelo a vedere perché è veramente un bel film. E poi, a parte Marta, l'attrice, tutti gli altri attori sono i doppiatori molto bravi. Sì, precisiamo dunque, riprecisiamo che non è Caroline Gillian l'attrice in questione di doppiato, ma la sua controparte adolescente. Esatto, esatto. Perché, vista la tua giovane età, tu sei una doppiatrice di personaggi ancora giovani, non lo so come il più famoso che è Missy Williams e Senaria Stark. Allora, vorrei salutare i nostri fan, che sono numerosi, il trono di spade, con una citazione di Arya Stark. Beh, ragazzi, Arya Stark mi saluta con un palermo pulis. E grazie, allora, tutti a vedere il giumanci e benvenuti nella giungla dal primo gennaio 2018. Sì, ciao a tutti. Grazie.